Una data inusuale per un recupero gelido. Trino e Piellese si affronteranno questa sera, nel recupero della partita rinviata lo scorso 12 dicembre. Palcoscenico dello scontro, lo stadio Picco, finalmente libero dalla coltre di ghiaccio che ha causato il rinvio, le proteste e i reclami. Facciamo un passo indietro. La copiosa nevicata del giorno dell'Immacolata, mercoledì 8, aveva di fatto colpito l'intero Piemonte, benché senza creare particolari disagi. La neve era praticamente sciolta già il giorno dopo, perlomeno a Biella, non a Trino, dove nella giornata di venerdì 10 un secondo evento nevoso aveva interessato il comune vercellese. Campo innevato e a tratti ghiacciato, partita ovviamente ingiocabile. La biellese scelse però di fare ricorso perché, come si legge nel comunicato riassuntivo della Lega, nella seconda modesta nevicata la squadra di casa, il Trino, avrebbe potuto sgomberare il campo dalla neve e renderlo praticabile, dato che nelle 48 ore precedenti la partita non vi erano state nuove precipitazioni, attivandosi inoltre per tempo per trovare un campo alternativo. Dall'altra parte, il Trino si è difeso, affermando di aver agito nel pieno rispetto delle norme regolamentari, dato che successivamente alla nevicata dell'otto aveva iniziato le opere di sgombero, interrotte il giorno seguente a causa della seconda nevicata, e di essersi tempestivamente attivato per chiedere il rinvio della partita, e che cercava, pur non avendone l'obbligo, un campo alternativo disponibile, ma senza successo. Tra i documenti, fatti per venire al giudice, anche una dichiarazione del sindaco trinese niente meno, attestante una copiosa nevicata nel comune tra le 10.30 e le 12 del 10 dicembre. Ad aggiungere Pepe, si legge sempre, nella decisione del giudice, il tenore di alcuni messaggi scambiati in chat tra i tesserati delle due società, che rileva l'esistenza di frizioni che non dovrebbero condizionare la leale collaborazione tra società sportive, come invece pare sia avvenuta nel caso. Insomma, per la biellese, ricorso, respinto e stasera si gioca. Il clima, quello esterno, si aggirerà sugli zero gradi, per la felicità di massaggiatori e preparatori atletici. Quello in campo potrebbe essere un tantino più caldo. Gli eventi, nelle ultime settimane, aggiungono poco a una rivalità forte che si trascina da diverse stagioni, a bruciare, nella mente dei giocatori biellesi, l'ultima giornata dello scorso campionato, quando, pareggiando a Trino, i lanieri sprecarono l'occasione di centrare la Serie D. Invece fu pareggio, a Vercelli, lo spareggio, a Maroc e la RG Ticino, una settimana da incubo. Un'occasione buona, quindi, per chiudere il 2021 e tutti i brutti ricordi legati in un colpo solo.